Musica Ciao a tutti ragazzi sono Nd e bentornati sul mio canale Sul mio canale con il nostro bellissimo Minecraft Allora, l'ultima volta eravamo rimasti qui che dovevo fare un paio di cose E dovevamo fare una piccola farm per mantenere i nostri bellissimi e stupendissimi pecorelle Allora, queste nostre bellissime e stupendissime pecorelle Voi vi stite credendo perché c'è un hardnet? Ho una batteria piena all'interno del nostro bellissimo inventario E ho ancora 17 A voglia te, a voglia te a pedalà fratello orso Allora, dicevo che abbiamo la nostra bellissima e stupendissima batteria Allora, ne ho fatte due Ora mi starete a dire Ah ma tu hai citato Ne ho fatte due perché almeno abbiamo una sorta di Di backup di questa energia perché ragazzi ce ne serve veramente un botto Allora, ci serve anche l'ultima parte Il calculator perché noi abbiamo l'engineering Il logic e il silicon ci serve il calculator Senza il calculator non possiamo fare un caspio Perché per fare queste L'energy cells Per fare queste ci serve il calculator circuit Con il silicon che abbiamo Il calculator circuit ci serve il calculation press Che con un pur certo squars diventa calculator vaffaccuccolo Questo qui si fa con il blocco di iron Con il calculator, l'iscriber, con l'iscriber calculator press Però il problema è che questo non ce l'avemo Non ce l'avemo Eccolo qui Captive presser found center of materials Vedi? Si trova all'interno delle cazzi di meteorite di merda Infatti ho preso il fottutissimo meteorite Corp Vaffanculo come cazzo ti chiami tu Poi ho fatto Ho fatto, ho fatto Intanto in off camera qua Ho costruito una piccola parte Per chi non conosce i materiali qui Le cose che ho usato è Un arverest air Che serve per Levare Appunto Levare Ora dovrebbe essere giusto Questa la scaviamo per fuori Ora dovrebbe essere giusto Poi questo qui lo mettiamo di sopra Che tanto mi pare che Entri anche da sopra Se non sbaglio Non vorrei sbagliarmi Ora facciamo subito la prova Poi ho creato Un po' di Sì qua sotto Eccoli Devo modificare perché Il nostro amichetto ha bisogno di energia E non gliel'ho messa Ok Io l'ho messa solamente al Planter E non al Fottuto Allora uno Due E Terredore Passi qua No Non è qua Manneggia me Quando sdengo Non è qua Porca Eva Ragazzo è Non è qui E Ah ecco perché Sta là sotto Ma abbiamo Il Abbiamo troppa acqua E non riesco A chiuderla Mannaggia me Mannaggia me Dell'acqua Che non riesco a chiude Ok Perché questo sta sotto all'acqua Io me l'ho dimenticato Ci ho messo l'acqua Vabbè Ormai È andata così E sti caspi Allora dobbiamo tirare fuori Un'altra Io ho bisogno di una fottuta pala Perché non ho una pala Non lo so neanch'io perché non ho una pala Non ho una pala E dai però E dai Chiuditi Oh che sbornio sto coso Ok Perfetto Adesso dovremmo esserci No Se non Ecco qua Se non faccio I I I Ok 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 Perfetto Dammi qui E pum Allora L'energia La fai uscire Da Dietro A te Allora lui sta Ok sta facendo Però mi serve quello al centro Fermi 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 Mi serve un pezzo di dirt Mi sono dimenticato quello al centro Ma porco Mmm Ma porco 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 E anche porco Porco E bam Lui dovrebbe piantare immediatamente E' fatti Perché ho fatto A parte che vorrei metterci anche i plant grow Accelerato Perché Se no così affittamo nel 2028 Allora Questo qui A parte il fatto che io ho questa Acceleriamo un attimo Sta facendo Perché vorrei vedere se cresca No Perché mi hanno letto le coglioni No facciamo i plant grow Perché mi hanno letteralmente rotto il cazzo Questi cosi non crescono per un frappo Io ho bisogno di sta roba Perché Devo dar da mangiare alle galline Alle pecore Alle pecore Alle pecore Pecore Eccolo lì L'ha tolto L'ha tolto Ha fatto lo sludge E ora vi faccio vedere a che serve Il fottutissimo sludge E ha fatto il coso Ah mi dà pure i semi però Mi dà anche i semi Ok Quindi c'è un Ci Dobbiamo trovare un modo Per far sì che i semi Ritornino Al planter Dovrei Usilizzare un cat Un cat Però non mi va Adesso non mi va Non voglio farlo Ma dopo faccio off camera Con tanta tranquillità Allora dicevo Dicevo Possiamo anche Tornarcene qui E fare i nostri Bellissimi Plant Groove Accelerito Plant Non ce stanno? Ma che bello Ok Signore Cioè Dovrebbero essere Della Della Mine Mine Ma Che cazzo Sta Colo Schioscia La merda Mine Mi Mi Mine Mine Factory La Mine Factory La Mine Factory Forestry Questa è tutta la Forestry Con le apette La Pette Apetta 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 E Non ce stanno Non ce stanno? No Aspetta C'è qualcosa Che non me guaglia Plastic tank Ok Non ce stanno Mi sto a rincoglioni Mi sto a veramente rincoglioni Mi sembra Cerino Cerino però Mi sembra che Cerino 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 Planter Ok L'abbiamo L'abbiamo già fatto Questo è il Fisher Grinder Liquid Router Non me frega Non me Minchia Liquid Craft Non me 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 Non c'è 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 Stal Planter Il Or Wish Implant Il Bot Implant Ma non c'è Uh c'è la Plantball Dell'industrial craft Quella è interessante Con quella ci possiamo fare Un sacco di roba E non c'è Il plant Quella c'è Cerino Ah scusa Andare Ah acce Acce No Non c'è Questo è il Crystal grow Accelerino Che ci servirà Questo ci servirà Prima o poi Ci servirà Ragazzi Ci servirà Questi si fanno Seed mail From fluid dust And sand Ah ok Serve la fluid dust E la sand Quello ci servirà Prima o poi Questo che cazzo Ah blood magic A me ha magic Non mi piace Ragazzi Io sto a creare Un pacchetto mio Cioè mio Nel senso che Comunque Sto cercando delle mod Delle mod Molto belle Fighe Molto più fighe Molto più belle Ah intanto possiamo fare Un'altra di queste Però Allora Le batterie Ci sono Sono due E sono perfette Belle cariche E dobbiamo fare Altri di quelli La Di questi qua Mamatic Crucible Mamatic Non c'è Il plant Che lo accelererete Infatti adesso Adesso mi sa Che la vado a mettere Aggiungerò un paio Di mod Credo A questo mod Perché non mi piace Poco roba Veramente poca Poco roba Allora Magmatic Eccolo qua Ok Magmatic 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 Ah questo è Dell'open box Ok Red Submission Invar 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 Tutto con l'invar Mortacci Silver Ingotta Allora L'invar Dovrei Allora La silver Dovrei averlo E Alluminum Silver E la voglia C'è No L'invar Me ne serve uno solo L'invar C'è No 39 pezzi Vabbè L'invar Si faceva Questo E questo Uh ma Io ho poco ferro Regà No Stiamo scherzando Però Stiamo scherzando Vero Dove sta L'enchanting Enchanting Plus En Ca Encanti Come cazzo Stai Enchanting Table E non c'è L'enchanting Plus Non c'è un Cazzo Questa mod Di merda Out Enchanting Table E Questo mod Pack Non c'è un Frappo Di quello Che mi può Essere utile Che cazzo L'avete Fatta Fa Out Enchant De L'olio In blocco No Mi serve L'enchanting Plus Enchanting Table Plus Però Se no C'è L'enchanting Normale Ma Mortacci Vostra Non c'è Disenchanter Questo è quello Il contrario Che è della Della cosa Della Draconic Evolution Che è stupenda Ma non c'è Madonna Che gran rottura Di Devo aggiungere Un po' di mod A quanto sto vedendo Questa è la World Bench Quella Super Mega Figa Project Bench Auto Enchant Possiamo fare L'auto Enchant Ma Non è come L'enchanting Plus Quello si che era Figo Affan Culpolo Enchant Heart Spot Loader Chunk Loader Enchant Table Questa è quella Normale Non c'è L'enchanting Plus Bene Signore Signore Quindi io Adesso Per enchantare Andare a scoprire Che cazzo Ti sto enchantando Che devo fa' Che devo fa' Animaccia Ostra Vabbè Non ce ne frega Una minchia Quindi Andiamo a trovare Un po' Allora Prima cosa Voglio fare Un'altra cosa Voglio fare Una cosa Molto più Fibile Voglio fare Un quazzo Mettiamo il cazzo Di query A fare Perché Mi ha stressato Il cavio E voglio fare Voglio Porco Tu devo Brucio tutto Adesso Brucio Magno tutto Mi faccio tutto Allora Queste Sì Queste qua Allora Mentre lui Sta facendo Tutto quello Che c'è Necessario Oltre a Farmi Anche Porca puttana Già se mi arriva Di una cifra De tempo Qua Allora Questo Vieni con me Vieni con me Perfetto E Noi andiamo a fare Una Hardnet Shell Energy Shell Eccole qui Wow Allora Una led Sono normalissima Perché Perché Tanto Mi serve Solo per il query Oh Oh Ok Madonna Un lag Bruttissimo Allora Allora Mi serve Vedro Quattro pezzi Di vetro Poi mi servono Quattro pezzi Che cazzo era Mi ricordo più Ah Lead Sì Ok Lead 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 Quattro pezzi De lead E Un blocco Cioè Significa Nove pezzi Di ossidiana Allora Nove pezzi Di ossidiana Abbiamo fatto il blocco Poi abbiamo Questi qua Questi qua E abbiamo fatto Il nostro bellissimo Eh No Poi una volta Fatto quello Abbiamo bisogno Di un Electro Mingot Electro Mingot Mi prendi Un Electro Mingot Stata stiera Del cazzo Due di queste Scusate Ragazzi Uso parole Molto più No Questo è il Condo Intense Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Fermi Boni Ce l'ho Non lo devo Craftare Sprechiamo Materiali a buffo Non devo Craftare Un cazzo Ce l'ho Allora Questo Ma porco Di quel porco Ma So ritardato Oggi Il copper Quando cazzo Lo pio Dopodomani Copper Copper Tre pezzi Mi servono Tre pezzi Ok Uno Due Tre Che cazzo Di problema Hai Che cazzo Di problema C'ha Sto Modpack Il Condo Intense Non Porca Puttana Maledetta È questo Porca Puttana Non questo Cazzo De Buddha Ma che Problemi Ho Ok Allora Ne ho preso Uno così piccolo C'è nel senso Piccolo Comunque Ne è piccolo Perché Vorrei Allora Me levi tutto E Dove cazzo Prendeva Non mi ricordo più Eccolo qua Quindi questo Posso levarlo Sì Sta Prende Ok Ok Prendo questo piccolo Perché tanto Mi serve solo Per il La cosa Il query Il query Non è che succhi Moltissimissimo Proprio La massima Mega potenza Me ne fotte Quello che mi serve È questo Punto Per adesso Bene questo Ok Allora Mentre lui Sta Dallo Io Me ne vado Alla ricerca Di questi Bellissimi Cosi Brutti Qui Quindi Noi ci vediamo In un prossimo episodio Dove faremo Anche la Cosa di La farm Di cosi Di come cazzo Di come cazzo Si chiamano Uno solo Perfetto Perché non ho i plant Croce Lo ereto di merda Ecco perché Dicevo Vado alla ricerca Di Questi Bellissimi E introvabili Mortacci Loro Spusate un secondo No J Dammi un po' J Ok Dammi J Mi fa vedere Ok Perfetto Le griglie Così vedo i chunk Che è meglio Allora Io sono andato Tutta sta parte qua No Tutta sta parte Se io vado De qua Mo Proprio così Per dire No Mo vado De qua Che succede Giriamoci al posto Andiamo E qui C'è sto capin Cazzo Rega Mi sto In coglionino Lì Esatto Là Drittori Ok Lui mi dice D'annate qua Però io non ci voglio Andate là Io voglio Andar E Stavo accade E Voglio andate qua Mi fai andate qua Mi fai andate qua Per favore Prima o poi Cambierà sto Poppolino Poppoletto Sto maledetto Eh si Buoni maiali Ma ci mettono Una rotta a me in faccia Maledetti Allora Questo Intanto posso farla ricaricare Mentre cammino Perché si ricarica Con sole Noi ci vediamo In un prossimo episodio Ragazzi Io farei Minecraft Tutto il tempo Però Però non posso Farlo Minecraft Tutto il tempo Perché non mi pare Ovvio Mi pare ovvio Che non posso Farlo Minecraft Tutto il tempo Non posso farlo Minecraft Tutto il tempo Mi pare ovvio Allora Ragazzi Penso che noi ci vediamo In un prossimo episodio O almeno Vi faccio vedere Se trovo Uno di questi Cosi Maledetti Sti cosi Maledetti Sti cosi Maledetti Ho detto Allora Oh E dai Sta cazzo De nano suite De merda De power suite Del caspio Mi sta poco Sui coglioni A volte Ok Ok Allora Ho trovato I pezzi mancanti Allora Vi faccio vedere Ho trovato Il pezzo Il calculation Press Abbiamo tutto adesso Dobbiamo fare solo Esclusivamente i macchinari Però Prima di fare i macchinari Che ci serviranno Volevo mettere Il query Per mettere Il query Però Adesso di landmark Non ce n'ho Praticamente Successo questo Che mi mancano Dei landmark Perché volevo Mettere il query Da sta parte Tipo qua Però con dei landmark Però siccome Le landmark Ce n'ho solo due Me ne servono quattro Non lo posso fare E quindi mi attacco A sta frappa Mosso Metto solo questo Allora Ho costruito Questi due tipi di tubi Qui Uno è fatto col diamante Un altro è fatto con Non mi ricordo Che cosa Però Aspettate Ve lo faccio vedere Allora Questo è fatto con diamante Vedro e diamante Semplicissimo proprio Invece l'altro Che è questo Eccolo Ok Quello che distrugge items Perché c'è scritto Destroyed items Sotto È fatto con una cosa Nera Io l'ho fatta col carbone Con il pezzo di carbone Un vetro E una redstone Eccolo qua Purverized coal Che cosa servono quei due Allora Questi due cosini qui Servono per una cosa Molto semplice ragazzi Allora Mettiamo il tubo Questo qui Ovviamente Ma porca di quella Vacca maiala Via Mi serve Mi serve di qua Così ve lo faccio vedere Allora Come potete vedere Ci sono dei colori Dei colori Che Non riesco più a cliccarci Ok Eccoli qui Dei colori che sono i filtri I filtri Normalissimi filtri Normalissimi filtri Voi dite Potevi prendere i pipes Quelli della thermal Mettere i filtri Sì potevo Ma Mi piace questa mod Mi piace Mi piace la mod Mi piace Allora Adesso tutto quello che è blu Se non sbaglio Sì esatto è blu Va buttato Se butta Tutto ciò che passa qui Si butta E tutto ciò che passa Invece Dast'altra parte Che ora diventerà Di un colore Ok Non ci sono riuscito Manneggia la vacca Manneggia Manneggia la vacca Mannei Manneia Ecco Tutto ciò che è bianco Passa dall'altra parte Ovviamente questo Qua Ora qua Ora qui Dalla parte Del blu Dobbiamo metterci Tutto ciò che deve Buttare Tipo Questa Perché Non è che tu ogni volta Blu 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 Ma la prendi E la metti qua Ok Ma la devi buttare Poi Mi serve un pezzo Di cobblestone 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 Che ho preso? Frecce Ok Ok Cobblestone Perfetto Ok Andiamo Qua Ebbene E dai Madonna Statuta Adesso la butto La butto Statuta La sto per buttare Poi Cobblestone Ok E poi mi serve Tutto ciò che riguarda Cose Questo che so La bislazioni No Deorite 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 Come cazzo Dicami tu Questo Perché non vorrei Acchiapparmi quello E poi lasciarlo Dentro La cosa Perché mi serve Lì c'è della tin Poi la prendiamo Poi questi Questi Assolutamente Proprio Questo Questo qui Assolutamente E poi Questo Allora Ho Questo La granite La diorite Sì La diorite Dammi un pezzetto Dammi un pezzo Desta diorite Del caspio Diorite Poi Questo possiamo buttarlo Questo lo frulliamo Perfetto Questo è per l'energia Questi sono i pipes Che possono essere utili Per altre cose Sti pipes Non solo Per questo Quello Quello che stiamo facendo Ok Questi li buttiamo Pensando sulle palle Ok Perfetto Poi Altra cosa Che potrebbe Andare buttata Ah La gravel La gravel Non ci serve Per adesso Poi ci servirà Poi Questo 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 Dammi qui Ok La gravel Dammi qui Pezzo di gravel Ok E poi Basta Cioè più o meno Questi qui Sono quelli che Deve buttare E non Prendere Quindi Ok Adesso cambio Sta tuta Ma già stufato La cambio Cambio Sta fottutissima Tuta Ma rotto Popo Popo Che li Che li Coco Mmm Ok E vatta Pien del secchio Tutte Stavolta Sta tuta Guardate se uno Deve Ok Ok Vuh 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 Ok Allora Qui mi devi mettere Questa 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 E Questa Ok Tutto ciò che riguarda Qua Butta via tutto Deve buttare via tutto Perché tanto a me Non me ne fotte Una sbeata Sbarambato Tanto non ci devo fare Non ci faccio Niente Allora Mettiamo l'uscita Perfetto Già cominciato Già cominciato Già sta prendendo Già sta distruggendo Per piazzare Ovviamente i blocchi E Ovviamente non prende nulla Perché deve solo distruggere Deve solo Massacrare Massa Quanto Succhia Ma sta a fare Ma se pia Botto sto coso Ma come cazzo Vedete 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 Sta passando la gravel Qua Perché sta andando via Sta andando via Sta buttata Via Sta buttata Via Via Ciò Ciò Tutta la gravel Pure rosso Potremmo mettere Pure rosso Potremmo mettere Tutto 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 ciò Che non è Quello che ci interessa La butta Ovviamente Anche i seed Dovrei mettere Però questi qui Tanto Li fa una volta sola Poi non li fa più Però dovrei Tipo metterli qui Ok Rosso Blu Non ricordo più Ah Rosso Blu Qua ok Questo E questo E poi Rosso Questo E questo Questo qua Già ce l'avevamo messo Questo Ok Dovrebbe buttare via Anche i semi Eh che palle Sti fiorellini Oh Via pure Fiorelli Via pure i fiorellini Allora Questo qua Diventa rosso Però Buono Questo non diventa niente Questo però diventa Viola Eh sì È la botagna però Oh Guardate la gravele Che sta andando Via ragazzi E questo Ha finito già l'energia No È impossibile Non c'è più Energia Sta finendo di scavare Ha finito di scavare E ha solo fatto Un pezzo di grave Solo un pezzo Ho fatto No raga Impressionante Sta a fare Ma quanto Cazzo La succhia Ma quanto beve Sto coso Quanto Quanto sta Questa è sprecata Qui Via Via Dammi qua Mettiamoci Mettiamola dall'altra parte Che questa qui È la resonante Sprecata proprio Non è la resonante È la Ardenet Vabbè Ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Perché qua sta durando Veramente troppo Ci vediamo in un prossimo video Come sempre Se non ti dici Guardatevi di iscrivervi Lasciate un commento Va ricomincia Oh porca Bacca Oh porco Ah è vero Perché fa uscire di più Fa uscire di più Questa Questa 800 RF A tic Fa uscire E ovviamente Prendi 800 RF A tic Vedete Alluminio Il resto Butta via tutto Sta buttando via tutto Tutto Sta buttando via tutto Perfetto Quello che volevo Guardate quanto Cazzo Scava Veloce Porca Bacca Che figata Ok Noi ci vediamo In un prossimo episodio Come sempre Se non ti ricordatevi Iscrivervi Lasciate un commento Iscrivervi alla pagina Google Plus E quella di Facebook Scusate se magari Ho tagliato dei parti O cose Però dura troppo Noi ci vediamo In un prossimo episodio Mi sa Che devo ricaricare Questa e portagliela Perché questo Se sta succhia pure Minonna Ok Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti